Siamo qui in autostrada con Antonio e Francesco, compagni di viaggio in questa avventura polacca destinazione Napoli Capodicino. Siamo arrivati a Napoli Capodicino, una pizza al volo e si parte. Non dovete mai la pizza a Napoli. Noi! Paolo Francesco, ficcati! Questo è mutuo, questo è mutuo il video senza... Lì è dove non stiamo noi. Poi dentro il cazzo. e prendere un po' più di questa maturata di questo ruolo va freddissimo finalmente in Polonia non abbiglia nessuna che fa più fredda mamma mia fa freddissimo ho già nevica direzione navetta meno 6 ma vado siamo su un autobus in cui non abbiamo pagato il biglietto e non sappiamo dove stiamo andando però non abbiamo pagato perchè è free ce l'ha detto lui che è gratis no c'è lui l'ha detto si lui l'ha detto ah tu pensavi che c'era no io penso che c'era la voce del popolo diceva secondo me questo è un autobus in cui non so non lo so è arrivato è arrivato il gioco avevo vedere che è quanto quanto? è nostro uber Il telefono è morto Grazie Grazie, ciao Arrivati Fanno il check-in E poi si va 5 minuti later Abbiamo finito il check-in Lo passiamo con questo esame? Ma speriamo Questo è l'ostello Sul lungo corridoio E io sto lì Perché io sto facendo una vacanza da solo a parte Solidarietà per i youtuber Solidarietà Finalmente si sta andati in un ostello Questo video di oggi termina qui Stasera noi andremo Prenderemo parte a un pub crowd Quindi una cifra per girare quasi tutti i pub della città Bere Considerando che è San Patrizio Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like Ci vediamo nel prossimo video Che è la Polonia Quindi forse seguiranno delle immagini di stasera Girate col telefonino Ci vediamo nel prossimo video Bye What the fuck? Hanno squacciato Mi festa Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti